Venerdì 4 gennaio familiari e colleghi daranno l'ultimo saluto a Marian Bratu, la seconda vittima dell'incidente alla ceieria Venete. Sono trascorsi quasi otto mesi dal 13 maggio, mesi durante i quali Bratu, gravemente ustionato, era rimasto sempre tra la vita e la morte in ospedale a Padova. Il funerale sarà celebrato alle 10.45 nella chiesa parrocchiale di Meianiga di Cadoneghe, dove vive la famiglia e dove è allestita anche la Camera Ardente. La CGL ha indetto lo sciopero generale per l'intera giornata per consentire ai colleghi di partecipare alle esequie di Marian Bratu.